Abbiamo vissuto tutti quanti l'emergenza Covid-19, abbiamo visto quanta disperazione, quanto senso di impotenza albergava in tutti noi, soprattutto nei soggetti più fragili. Abbiamo visto come le istituzioni per varie ragioni non sono riuscite a dare risposte adeguate. Ovviamente parliamo di una pandemia, di un qualcosa di così inimmaginabile fino a qualche mese prima. Ma c'è un mondo, un'isola felice, quella del volontariato, io li definisco gli angeli della solidarietà, che hanno saputo accarezzare i casi più difficili, più complessi. Sono riusciti a dare una parola di conforto preziosissima dal punto di vista morale nei momenti più terribili del Covid, ma anche tanto sostegno materiale, consegna di viveri, insomma atti concreti, materiali, che hanno dato ristoro. Motivo per il quale sono qui, presso la sede di Piazza Marconi a Taranto, presso la sede di ERA provinciale Taranto, che sta l'acronimo di Associazione Radiomatori Europea Telecomunicazioni Emergenza, nonché volontari Protezione Civile. E sono qui con il signor Ascanio De Filippis, che non solo è il responsabile provinciale, ma anche il responsabile provinciale per ERA delle guardie, appunto, zoofile. Allora, parliamo De Filippis di questi momenti che avete vissuto e in cosa si è sostanziato l'apporto, il sostegno che voi avete dato, soprattutto ai soggetti più fragili. Sì, abbiamo iniziato questa nostra attività, all'inizio era solamente un supporto telefonico, noi abbiamo qui una sala operativa dove c'è un numero che chiamavano per chiedere le informazioni, perché all'inizio ci sono stati tanti dubbi, tante incertezze, non sapeva la gente come fare, come si doveva organizzare per alcune problematiche di livello sanitario, problematiche di figli, altre tipologie di assistenza verso i parenti e quant'altro. Dopodiché, insieme ad altri amici e altre associazioni, abbiamo collaborato nella consegna di pacchi alimentari. Consegna di viveri a domicilio? Consegna di viveri a domicilio nel portone, noi non siamo mai saliti sopra per evitare questo contatto, per evitare il Covid-19. Quindi abbiamo iniziato questa avventura grazie all'aiuto di molta gente, molte famiglie di palazzi che hanno fatto la raccolta alimentare, tantissime associazioni hanno collaborato insieme a noi, anche nella consegna e anche molti imprenditori hanno fatto donazioni che ci sono servite per distribuire la popolazione. Anche il Comune ci ha aiutato per questa distribuzione, fornindoci soprattutto nominativi, ma anche del materiale, quindi degli alimenti. Durante questa attività, che è iniziata più o meno verso circa il 20 di marzo, abbiamo fatto circa 1600 pacchi, abbiamo consegnato 1600 pacchi. Durante la parte, diciamo, verso metà del mese di aprile abbiamo iniziato anche un progetto di consegna di pasti, consegna di pasti caldi e senza tetto. Non ci siamo mai fermati perché comunque si iniziava dalla mattina con la raccolta delle donazioni, si faceva la spesa, poi si facevano i pacchi e nel primo poveriggio riparivano le varie squadre, 5, 6, 7 squadre che uscivano per la distribuzione in tutta Taranto. Quindi parliamo di Paolo VI, Tamburi, Taranto Vecchio, Il Borgo, Taranto, Lama, Talsana, tutta Taranto. Quante persone del vostro gruppo di volontari sono state impegnate? Allora, non tutte sono state impegnate, noi contiamo al momento circa 120 volontari, però come ha detto lì prima, io gestisco anche le guardie zofile, quindi quelle sono rimaste più o meno quasi tutte in stand by. Abbiamo utilizzato tutti i volontari al di sotto dei 60 anni per evitare i contagi perché era consigliato un vinco, era consigliato di non utilizzare questo personale per una loro, per autoprotezione diciamo. Ecco, quindi mediamente bisogna considerare circa una ventina di persone, erano mediamente impegnate tutti i giorni, dalla mattina diciamo alle 7 e mezza fino alla sera, alle 6, 7, 8 la sera. C'è un'espressione, una bella frase che ripeto molte volte a me stesso, è più bello dare che ricevere. E voi come gruppo di volontari, come gruppo Era Provinciale Taranto avete dato tanto, certamente vi siete arricchiti moralmente perché vedere un sorriso di un anziano che si sente coccolato, che sente l'affetto che purtroppo la contingenza del momento gli ha negato, beh, arricchisce lo spirito. Sì, sì, questo è il premio maggiore, la cosa più bella. Abbiamo aiutato tanta gente, abbiamo portato dei viveri a una palazzina di circa 20 famiglie, abbiamo portato, di colpo ci siamo organizzati, abbiamo portato questi geni alimentari e si sentiva nel brusio delle persone che erano affacciate, i bambini che dicevano mamma stasera si mangia, mamma stasera si mangia, quando ce ne siamo andati? Una frase che tocca il cuore. Si tocca il cuore, abbiamo donato anche dei giocattoli, ci donavano anche giocattoli, quindi i bambini giocattoli, giocattoli, come se la fame fosse svanita, improvvisamente vedendo i giocattoli. Quando ce ne siamo andati via hanno fatto l'applauso, che ovviamente noi non abbiamo richiesto, però ci siamo sentiti veramente alle stelle, veramente contenti di quello che è successo. E poi tante altre storie di gente, ci sono delle signore che noi portavamo periodicamente da mangiare, che ogni volta che andavamo a portare questi pacchi dicevano ma noi preghiamo sempre per voi, perché voi siete sempre in mezzo alla strada, perché vada sempre tutto bene. Questi sono dei riconoscimenti che ci fanno fare sempre meglio nel volontariato. Per concludere la nostra chiacchierata, ora il Covid pur con tutti gli accorgimenti sembra essere in via di risoluzione, sembra, perché poi una seconda ondata purtroppo è ancora possibile, ma grazie a Dio la situazione, almeno a Taranto, il pericolo sembra completamente scongiurato. Ma andando così all'attività che il gruppo era così genericamente e normalmente svolge, in cosa si sostanzia questa attività abituale, diciamo, di tutti i giorni? Noi normalmente siamo pubblica assistenza, quindi facciamo servizi di protezione civile, di safety e security alle manifestazioni. In questo momento, post-Covid, prestiamo assistenza alla Chiesa di San Francesco per consentire l'espletamento corretto delle funzioni. Abbiamo partecipato ad aiutare la Chiesa di Sant'Antonio, appunto, per la festa di Sant'Antonio. In questo momento siamo impegnati, come in questi giorni, per la festa della Chiesa di San Francesco. Domani ci sarà il Vescovo alla Chiesa di San Francesco, quindi stiamo dandole una mano. Abbiamo intrapreso l'attività stagionale per l'AIB, l'antincendio boschivo, e quindi faremo quest'anno, oltre all'intervento per spegnere materialmente l'antincendio boschivo, anche l'avvistamento, oltre all'ormale campagna idrogeologica che si fa ogni anno, per le associazioni iscritte alla Regione Puglia. Stiamo cercando di scoprire questi protagonisti, lo dico con affetto, di ERA, appunto, l'Associazione Europea Radio Amatori Volontari Protezione Civile, il loro immenso apporto che danno in ambito di volontariato, di assistenza, lo abbiamo appena detto con il Presidente a proposito del Covid. Ora abbiamo il Vice Presidente Provinciale Claudio Donnaloia, nonché coordinatore regionale delle guardie zoofile. Beh, ognuno di noi, ognuno di voi ha una famiglia, ha moglie, figli, parenti da assistere, da accudire, a cui voler bene, ma è anche bello per dare un maggiore senso alla propria vita, uscire dall'orticello familiare e dare una mano agli altri, a chi soffre, a chi è in difficoltà, a chi vive il momento del bisogno. È un senso per sublimare la propria, la nostra esistenza. Ma è proprio il nostro scopo, è proprio quello, cioè aiutare il prossimo. Lo facciamo col cuore, come è coinvolta e iscritta con noi anche mia moglie, la moglie del Presidente Ascagno De Filippi, si fa la volontaria con noi. Noi siamo qui per aiutare il prossimo, lo facciamo col cuore, ci dà una soddisfazione morale grandissima ed è una cosa bellissima, lo facciamo senza scopo di lucro. Grazie a delle donazioni abbiamo anche un parco auto abbastanza ampio, abbiamo tre macchine per le guardie aziofili, abbiamo una 156, una 159, una cordola tutta regolarmente iscritta, monologata, registrata alla motorizzazione. Siamo un'associazione che cerchiamo di fare le cose regolari. Dove svolgete anche il vostro servizio? Mi pare anche presso la Corte di Appello? Sì, alla Corte di Appello siamo tutti i giorni di servizio, dalle 8 alla mattina a mezzogiorno. Quindi un supporto proprio alle istituzioni? Sì, all'ingresso per controllare le persone che entrano, la temperatura e quant'altro necessità. Diamo una mano alle istituzioni. Parliamo della sua storia, del suo approccio al mondo del volontariato, come è nata? Alcuni amici mi hanno detto, dice, ma lei sin da piccolo ha percorso tutto l'iter, da Lupetto fino poi ad approdare Adira. Sì, purtroppo è una cosa che ce l'ho sin da bambino fare il volontariato, aiutare il prossimo, perché è una cosa che la si sente e la si fa col cuore. Perché fare il volontariato è una cosa semplice ma difficile contemporaneamente, perché noi lo facciamo senza dover pretendere nulla da nessuno, neanche il grazie. Il dare senza chiedere. Il dare senza chiedere, la soddisfazione è più grande. Bene, devo dire che per me è stata una soddisfazione, perché conoscevo così l'esistenza di Era, però vedere che c'è una Taranto migliore, che c'è una Taranto a cui batte il cuore, che c'è una Taranto che è in grado di dare ristoro a chi soffre, aiuta davvero a credere in un mondo migliore. Grazie Era. Grazie a tutti.